Siamo nelle latomie di Cava Gonfalone, qui nelle viscere della città di Ragusa. Forse molti non sanno che sotto la città di Ragusa esiste un'altra città sotterranea. Si tratta del luogo dove i nostri antenati hanno ricavato la pietra per ricostruire la città dopo il terremoto del 1693. Noi vogliamo far rivivere questo luogo. Stiamo organizzando, abbiamo organizzato uno spettacolo molto suggestivo, l'Inferno di Dante, uno spettacolo che siamo sicuri si adatta perfettamente con il luogo, con le caratteristiche del luogo e ci servirà e sarà utile per promuovere il sito e fare in modo che la gente possa vivere questo posto, possa fruirne e possa tornare a visitarlo per come merita, perché riteniamo che solo attraverso la valorizzazione dei nostri luoghi, potrà avvenire anche un rilancio della nostra città. Per cui grazie alla produzione, grazie al regista Anfuso, l'Inferno di Dante a fine maggio nell'Atomie di Cala Gonfalone.